Il turno numero 31 della Girone F di Serie D è contrassegnato dalla buona notizia del ritorno in campo del Castelnuovo che seppure tra tanti problemi legati ancora ai contagi nella rosa della prima squadra riceverà tra le Muramiche e le Tolentino ma inevitabilmente lo farà con i Cerotti. Tante le assenze ma la società neroverde per cercare di permettere al campionato di terminare nei termini previsti ha comunque dato la disponibilità alla LND qualora fosse necessario e accettato dalle altre squadre di disputare ulteriori turni infrasettimanali di venerdì. Un tour de force incredibile per cercare di venire a capo discorso che vale per tutto il Girone di un campionato che ha già rinunciato per questioni di tempo alla disputa dei play-out e vede sempre più a rischio la disputa dei play-off. Intanto domani c'è la sfida con i Cremisi che hanno nulla o quasi da chiedere ancora alla loro stagione una volta archiviata positivamente la salvezza. In alto il campo basso ha un impegno morbido con l'atletico Porto Sant'Elpidio che lascerà la categoria per tornare in eccellenza e di conseguenza la strada per la Lega Pro, per il rosso-blu molisani, sembra ancora più spianata. Dovrà rispondere il notaresco che al Savini attende il vasso Girardi in una domenica nella quale anche il pubblico, seppur in misura ridotta e contenuta, può tornare finalmente a respirare le emozioni di una partita di calcio di quarta serie. Sarà così per tutti i match, rispettando le disposizioni e con una percentuale massima di riempimento del 25% rispetto alla capienza totale. A notaresco 200 tagliandi per i tifosi di casa e 50 per i tifosi ospiti. Il rosso-blu di Epifani sono a meno 8 dalla vetta e l'impresa è quasi al limite del possibile, ma onorare al meglio un altro grande campionato per il notaresco è assolutamente d'obbligo per salvaguardare quella seconda piazza che occupa con pieno merito dopo, peraltro, la beffa dell'anno scorso. Trasferta a Castelfidardo per i Giulianova. I marchigiani, reduci da un percorso oltre quelle che erano le attese della vigilia, ma l'11 di Bitetto, dopo aver trovato una struttura riconoscibile, sono in grado di andarsi a prendere la posta in paglio piena. Anche considerando che a Monte Giorgio e Porto Sant'Elpiti giallorossi hanno già preso sei dei punti che hanno in classifica. Altra trasferta, ma nel Lazio per il Pineto, che al Torricci di Aprilia cercherà di difendere e migliorare la quinta piazza attuale e con una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti, anche per cancellare il recente scivolo all'interno nel match di recupero contro la Vastese. Il ministero lo devo solo ringraziare perché mi ricordo che con la Mignores, un amichevole contro il Terramo, davanti a tutti quanti, disse che da ora in poi io sarei diventato il capitano. Quindi lo devo solo ringraziare e lo devo puntare solo all'obiettivo. Sicuramente avevamo una mente più libera, però sapevamo comunque che domenica ci aspetta una partita importante contro l'Aprilia, è una buona squadra e quindi siamo pronti per questa prossima battaglia. Sicuramente il mio primo obiettivo è quello comunque di crescere, perché comunque mi trovo in una società veramente importante, con obiettivi stabiliti, ben precisi, comunque giocando anche con calciatori in cui hanno fatto campionati importanti come la Serie C, eccetera. Sicuramente mi aspetto di migliorare sempre di più. Di squadra abbiamo degli obiettivi ben precisi, che comunque è quello di vincerle tutte, fare più punti possibili e prima possibile ovviamente. A proposito di Vastese, proprio a Pineto, vista la squalifica dell'Aragona, i biancorossidi da Derio proveranno ad avere la meglio della Cinzia Alba Longa, formazione terza della classe. Impegno complicato, ma che, come per il Giulianova, gli aragonesi possono affrontare, senza patemi. Infine gli arbitri, Aprilia Pineto a Stefano Peletti di Crema, Castelfidardo Giulianova a Valerio Bocchini di Roma 1, Castelnuovo Tolentino a Maxim Frasiniak di Gallarate, Notaresco Vasto Girardi a Stefano Raineri di Como e Vastese Cinzia Alba Longa a Nicolo Rodigari di Bergamo. Grazie.